arte romana per i romani anche l'arte deve avere un utilizzo pratico infatti si dice proprio che l'arte romana ha una funzione politica e sociale cioè in questo caso esalta la grandezza di roma infatti per i romani l'arte è quasi secondaria come importanza a guerre e conquiste i romani devono conquistare il mondo insomma sono molto impegnati non è che possono sempre pensare all'arte infatti l'arte romana comincia realmente solo con la conquista della grecia cioè dal 146 avanti cristo per i romani infatti sarà proprio importante l'idea di fare cose per l'impero romano quindi saranno anche cose artistiche ma saranno molto pratiche come ad esempio grandi opere quindi opere pubbliche a quei dotti edifici pubblici basiliche teatri terme e quando l'impero romano inizierà poi a crescere diventeranno fondamentali le vie di comunicazione per raggiungere proprio le le nuove regioni tutti i nuovi luoghi conquistati ed ecco quindi che verranno ottimizzate le strade le vie i ponti insomma tutto viene progettato per ottenere i migliori risultati possibili e fra l'altro inventando anche delle nuove tecniche costruttive per fare sempre più grande l'impero romano i romani inventano nuove tecniche edilizie perfezionano l'arco e la volta tutto sesto che erano anche stati utilizzati già dagli etruschi e tutto questo perché perché i romani realizzano grandi opere cioè ponti strade acquedotti anfiteatri basiliche terme archi di trionfo in pratica i romani realizzano i primi edifici pensati e progettati per essere visti e anche utilizzati al loro interno cioè non solo da guardare all'esterno soprattutto come succedeva per i templi greci e fra l'altro fonderanno anche diverse città e all'interno delle città inventeranno anche vari tipi di abitazione e le città romane derivano proprio dalla forma dei loro accampamenti militari cioè dal castrum e hanno quindi delle strade a scacchiera e sono proprio spazi organizzati geometrici pratici come appunto un accampamento militare richiede le due strade principali delle città romane e quindi anche dell'accampamento militare sono il cardo che è il nord sud e il decumano che è la strada invece che va da est a ovest all'incrocio di queste due vie più importanti troviamo il foro cioè la piazza principale ma in architettura inventano anche sistemi diversi per costruire propri muri avremo anche appunto opus incertum quindi sempre costruiti con malta calce sabbia acqua quindi tecniche anche che sono moderne se vogliamo però per esempio l'opus incertum avrà le pietre regolari e sono accostate in modo anche un po casuali e quindi questa malta liquida va poi a riempire le due paretine laterali ci sarà invece l'opus reticolatum che è in cemento dove il cemento viene versato appunto fra due muri che però sono muri un po più eleganti anche più costosi sono formati da tronchetti di piramide assolutamente precise regolari e poi ci sarà invece l'opus lateritum dove all'esterno invece che pietre regolari o appunto tronchetti di piramide troviamo i semplici mattoni cotti però appunto lasciati a vista e il riempimento a questo punto è sempre un po variabile in pratica i romani inventano sistema per fare dei muri anche di semplice realizzazione anche molto rapida e anche un costo abbastanza basso soprattutto nel caso dei muri semplici ma mura molto resistenti l'arco è una forma meravigliosa perché perché viene utilizzato per costruire le porte quindi lungo le mura ma può essere utilizzato anche affiancando una serie di archi per costruire ponti acquedotti e fognature ricordiamoci che i romani sono stati primi ad avere in pratica le prime fognature pubbliche quindi la cloaca maxima che è la fogna più grande ed è anche la più antica fogna funzionante ancora da ancora adesso in tutto il mondo colonne commemorative e archi di trionfo erano proprio grandi opere romane che servivano per celebrare per ricordare per commemorare che cosa ma ovviamente le vittorie non avrebbero mai fatto un arco non di trionfo appunto ma della disfatta insomma quindi si chiamano proprio archi di trionfo le colonne commemorative sono decorate quindi da un fregio continuo che avvolge proprio la colonna stessa in un lungo incredibile ininterrotto racconto fatto come a basso rilievo mentre l'arco di trionfo come ad esempio quello di costantino ci sono appunto dei bassi rilievi che vengono proprio anche addirittura a volte messi quasi in ordine in pannelli che illustrano lo scene militare appunto le vittorie di quella tal battaglia e anche in questo caso appunto servivano proprio per raccogliere l'esercito vincitore per ricordare una grande conquista un'opera importante andata ovviamente a buon fine grandi opere allora per grandi opere si intendono appunto le opere che possono essere utilizzate da tutta la popolazione come ad esempio teatri anfiteatri la differenza fra il teatro greco e quello romano è lampante perché quello greco sorge dove c'è già un posto un po naturale a cui poi aggiungere delle sedute il palcoscenico eccetera quello romano invece non necessita di collinette naturali quindi può essere costruito un po dove serve cioè dove occorre anche ad esempio al centro della città la forma è comunque molto simile quindi sempre circolare e visto dall'esterno al posto della collinetta troviamo le arcate il famoso arco che viene utilizzato anche appunto per costruire la forma del colosseo e questi archi realizzati in sequenza appunto formano degli ordini sovrapposti invece l'anfiteatro ha una forma ellittica e viene utilizzato soprattutto per i giochi fra i gladiatori e anche le naumachie ricordatevi i combattimenti navali si sull'acqua perché spesso questi questi teatri all'aperto venivano chiusi riempiti d'acqua come nel colosseo e venivano appunto ricreate delle incredibili battaglie navali ma dei romani dobbiamo sicuramente parlare anche del panteone il panteone è un tempio è dedicato ai dodici dei e anche al sovrano vivente e all'interno troviamo un'unica stanza circolare con una cupola emisferica la più grande al mondo fino a quella rinascimentale le brunellesche a firenze proprio questa del panteon di roma e lo spazio all'interno è fra l'altro una cosa un po particolare perché viene fuori proprio la forma di una sfera perfetta con un diametro di 43,44 metri sia ad altezza che in larghezza quindi all'interno la luce arriva solo da un foro al centro che rimane fra l'altro aperto alla sommità proprio centrale della cupola aperte ci piove dentro anche poco pochissimo perché è fatto bene esternamente a una facciata di un tempio greco nel corso dei secoli è poi diventato una chiesa dedicata alla vergine e conserva fra l'altro resti di molti martiri ma anche di personaggi famosi come ad esempio raffaello e altri artisti tipologie abitative in pratica la forma delle abitazioni nell'epoca romana troviamo innanzitutto l'insula l'insule quella proprio che dà il nome anche all'isolato attuale quindi sono le grosse case in città sono i piccoli condomini sono case popolari dove viveva poi la gran parte della popolazione e sfruttano lo spazio in altezza quindi arrivano fino al sesto settimo anche ottavo piano questo era anche un problema perché più alte erano meno erano sicure erano sempre a rischio crolli incendi addirittura erano comunque fatte di legno tanto che molti imperatori provarono anche a limitare addirittura i piani delle insule ma non ci riuscirono praticamente mai altra cosa particolare che più uno era povero più viveva in cima perché ovviamente non essendoci gli ascensori erano ovviamente le parti più scomode mentre al piano terra c'erano sempre le botteghe comunque insomma degli spazi pubblici poi abbiamo la domus la domus era anche in città non solo all'esterno certo serviva un po di spazio la domus è una bella casa è grande spaziose sono areate e sono anche fornite di bagni latrine hanno anche l'acqua corrente calda e fredda e sono riscaldate d'inverno da un tipo di riscaldamento centrale tipo come si chiama proprio ipocausti e sono dei dispositivi che fanno passare le correnti d'aria calda sotto i pavimenti sono anche decorate con vetri colorati decorazioni a mosaici insomma sono dei gran bei posti dove vivere vediamo dei termini che sono proprio legati alla domus come per esempio i cubicoli che sono gli alloggi l'ortus è il giardino il triclinium è la sala da pranzo mentre l'impluvium è la vasca rettangolare per la raccolta dell'acqua piovana ma i veri ricchi quelli straricchi e gli imperatori non potevano accontentarsi solo di una domus ma avevano bisogno di una villa attenzione villa romana vuol dire non solo una casa ma un insieme un agglomerato di edifici alla fine del periodo repubblicano proprio al di fuori delle città cominciano a sorgere queste ville sono delle bellissime case di campagna ma sono anche centri di aziende agricole ma anche luogo di riposo e di svago e sono proprio formate da un insieme di più edifici quindi c'era dal tepidarium alle terme salone del circo insomma c'erano i corridoi di caccia poi la basilica insomma sono veramente come delle piccole città in miniatura la scultura romana ha proprio origine in parte dalla tradizionale scultura greca che era stata conosciuta grazie al contatto con l'area proprio della magna grecia e all'importazione a roma di pezzi ellenici cioè veri pezzi greci che erano stati poi ampiamente studiati e anche vi ricordate riprodotti dagli scultori romani che appunto lì iniziavano a collezionare quindi ne volevano sempre di più del resto i romani erano conquistatori erano sempre pronti a imparare a perfezionare le conoscenze dei popoli che avevano conquistato dai greci imparano proprio l'arte soprattutto l'arte della scultura la scultura diventa proprio un sistema per fare propaganda politica esaltare il politico del momento ecco perché troviamo vari tipi di scultura romana statuaria quindi a tema politico ma anche a tema religioso cioè gli imperatori vestiti da divinità ma anche scultura ritrattistica cioè proprio sotto forma di busto anche solo la testa e qui iniziamo a vedere anche dei ritratti davvero realistici e molto somiglianti al soggetto ritratto anche compresi difetti fisici troviamo anche ritratti nelle monete romane e troviamo ovviamente sulle monete gli imperatori e sono sempre di profilo ma anche troviamo scene di combattimento o di trionfo per quanto riguarda la rapace se è un immenso altare ed è stato dedicato all'imperatore augusto e alla pace conquistata con le missioni in spagna e gallia esalta quindi anche in questo caso qualcuno esalta l'operato militare politico e gli ottimi risultati ottenuti ricordiamoci l'arte romana deve sempre servire a qualcosa quasi sempre infatti appunto serve ad esaltare vittorie personaggi che hanno compiuto grandi grandi cose appunto per quanto riguarda la pittura romana abbiamo moltissimi esempi di pittura romana perfettamente conservati basti pensare a pompeio ercolano in queste due città coperte dalle ceneri del vesuvio i colori sono sono mantenuti proprio intatti sgargianti molto vivaci e non si sono neanche rovinati granché grazie appunto a questo strato di cenere che li ha protetti e quindi possiamo anche vedere soggetti preferiti e anche stili e si possono individuare stili diversi per esempio nel primo stile si chiama incrostazione e imita proprio i rivestimenti di lastre e mattoni cioè non sono lastre e mattoni ma sono dipinti come se fossero rivestite queste pareti da lastre e mattoni nel secondo stile invece troviamo l'architettura prospettica dove troviamo proprio archi spazi ambienti che in realtà sono inesistenti ma vengono simulati davvero la perfezione sfondando proprio otticamente le pareti ricordatevelo sempre i romani conoscono perfettamente inventano probabilmente la tecnica della prospettiva cioè per rappresentare lo spazio la profondità dello spazio su una parete invece piatta nel terzo stile troviamo una parete reale proprio con l'inserimento addirittura anche delle figure umane animali sfondi proprio con paesaggi anche più semplici però insomma si crea non solo lo spazio prospettico ma anche un'atmosfera sempre molto elegante e rilassante nel quarto stile invece spaccano di brutto perché perché troviamo l'illusionismo prospettico quello proprio con le architetture prospettiche che vengono portate ai massimi livelli si formano si si rappresentano stanze di una dietro l'altra in maniera anche un po' esasperata con dei risultati sorprendenti sono in pratica i primi trompe l'oeil della storia dell'arte cioè l'inganno dell'occhio e questo termine è un termine che sentiremo ripetere molto spesso anche nei secoli successivi grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti